Si chiama Billy Beaver, è una giovane porn star e ha un account su OnlyFans e ha veramente un successo clamoroso in Australia dove vive. Eppure però questa donna si sfoga tranquillamente e serenamente facendo sapere di non riuscire a trovare un fidanzato. Perché non riesce a trovare un fidanzato? Vi starete chiedendo perché gli uomini non vogliono avere con lei una storia vera, una storia seria, una storia fatta di un eventuale amore. Beh sì, vogliono avere semplicemente delle avventure sessuali, delle stupide storielle da poco conto. Si vogliono divertire con questa donna a livello sessuale, eppure la donna in questione cerca un uomo per avere, diciamo così, un affiadamento, una storia, una relazione, un amore puro, completo, totale e magari, perché no, un matrimonio che possa effettivamente parlando esserci sbocciare tra lei e un altro uomo. Eppure però sembra che non riesca a trovarlo perché tutti o quasi vogliono semplicemente puntare al suo corpo. La vedono come un oggetto del desiderio, un oggetto intimo, un oggetto del piacere intimo, vana sessuale, e non vedono altri elementi caratterizzanti in lei. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, utenti di Youtube. Iscrivetevi, 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 commentatevi, un caro solo voi daria a non aralare.